Sindaco Francesco Menna, a seguito degli ultimi episodi di corona che accaduti in città, come si sta muovendo l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale si sta muovendo, invitando a riunire il Comitato per la sicurezza e in programma e nel cuore di questa amministrazione, come da programma elettorale, il potenziamento della videosorveglianza, il rafforzamento, il potenziamento dell'organico dei vigili, quindi del comando di polizia municipale rispetto alle loro varie funzioni, fermo restando la questione principe che è il presidio di legalità per eccellenza e quindi l'impegno e il lavoro che si sta facendo per il presidio della Procura di Vasso e del Tribunale. Queste sono le questioni, il lavoro che il pubblico amministratore che svolge funzione pubblica deve fare e sta facendo per la città. Ritiene che in questi dieci anni di centrosinistra in qualche modo si sia sottovalutato un po' il problema della sicurezza? Io credo di no, ne sono la prova il fatto che molte città non hanno adottato la videosorveglianza, molte città tra l'altro amministrate anche da coalizioni di centrodestra. Vasto da questo punto di vista è all'avanguardia, la videosorveglianza ci ha consentito di arrivare anche a risolvere episodi delinquenziali e soprattutto va ribadito un concetto, la grande fiducia nelle forze dell'ordine, la grande fiducia nelle forze di polizia, di carabinieri, nei loro rappresentanti, in questi servitori dello Stato che in questi giorni stanno lavorando, stanno portando a termine un grosso lavoro. Una grande fiducia nel Tribunale, nella Procura per gli eccellenti risultati ottenuti in questa fase. Vasto è una città di confine e quindi come tutte le città di confine merita un'attenzione e un'attenzione soprattutto rispetto a presidi come il Tribunale e la Procura. In notizia di questi giorni chi ha dato mandato all'Avvocatura Comunale di ricorrere contro l'accorpamento della stradale? Che margini di successo ci sono? L'accorpamento della stradale alla stradale di Vasto Sud, quindi il fatto che questi otto uomini, questi otto funzionari di Stato vengono accorpati alla stazione di Vasto Sud, è secondo noi un momento che deve far riflettere il Ministero. Questo è un atto che non ha riguardato solo Vasto, ma ha riguardato tutto il Paese, tutta l'Italia. Sono state soppresse varie sottostazioni, sottocommissariati della stradale, da Bari a Ortona, a Francaviglia, salendo fino al nord. Ma quello che è il nostro obiettivo e porre in essere tutti gli atti che l'amministrazione pubblica può fare, ho fatto l'incontro al Ministero, dell'Interno, o impugneremo se possibile questo atto, chiederemo un altro incontro a che ci sia un rafforzamento, comunque un potenziamento dell'organico. Una stazione che viene, si soppressa, ma accorpata alla stazione del commissariato di Vasto Sud.